Dopo qualche anno di stoppe in centro all'Aquila e quattro cantoni, oggi è ripresa la tradizionale Befana del Vigile, manifestazione organizzata dall'Associazione Ruote d'Epoca Aquilana, il Comando di Vigili Urbani del Capoluogo, Laci, e il Corpo dell'Ordine di Malta, una tradizione antica che ha mantenuto la sua primaria funzione però, quella di raccolta di generi alimentari da devolvere a chi ha più bisogno. È una bellissima occasione quella di questa mattina, di solidarietà nei confronti della cittadinanza che è più in difficoltà rispetto al resto della popolazione aquilana. Una tradizione che, come detto, riparte dopo quattro anni, dopo il Covid, e come potete vedere, insomma, ci sono tanti bambini che sono davvero felici e quindi io invito tutti quanti i cittadini aquilani a donare qualsiasi cosa essi vogliano, un bene di prima necessità, proprio per stare a fianco a queste famiglie più bisognose. Esposte anche a Autodepoca, una mostra fotografica che rimanda alla prima edizione, La tradizione della Befana del Vigile risale al finire degli anni 50 del secolo scorso. In sostanza c'era il Vigile allora che regolava il traffico su una pedana e i commercianti, i bottegai, i cittadini più ricchi lasciavano i loro doni che poi venivano portati agli istituti benefici della città.